Come diceva Protagora, l'uomo è la misura di tutte le cose. Il fatto di partire da noi, dalla nostra minimalità di esseri umani, è un po' come quel detto cinese per cui per fare mille chilometri devi cominciare da un piccolo passo, dal piccolo al grande. Ecco, questo è il concetto che ho cercato di sviluppare. In termini pratici è un corridoio ottico che parte da un'altezza di circa sei metri e largo quattro e diventa un piccolo portale di due metri per uno, quindi si ha una dilattazione dello spazio che poi abbiamo aiutato, perché in fondo ha questo cono, poi abbiamo messo una figura umana stampata in 3D e quindi c'è questa sorta di percezione aumentata di uno spazio. La struttura l'abbiamo fatta con Manni Group, che è questa azienda specializzata sia in progettazione che realizzazione di elementi a telaio strutturale. Il rivestimento è realizzato con un sistema secco di pannello cementizio a basso spessore di Knauf.